Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Alessa e sono una studentessa del terzo anno di mediazione linguistica interculturale. Ho scelto l'Insubria perché essendo una piccola realtà puoi avere un confronto diretto con i docenti e uno stretto legame con i compagni. Ci sono tantissime belle iniziative, da viaggi studio a conferenze di varia tematica. Per esempio io insieme a altri compagni di diversi corsi di laurea abbiamo creato un club del libro dove uniamo lingue e letteratura e quindi ci conosciamo.